La corsa è forse meno affannosa del solito, ma anche quest'anno, malgrado la crisi, c'è il regalo Last Minutes da far trovare sotto l'albero. Qui siamo a Taranto, in via d'Aquino, la via dello shopping per eccellenza. Molti passeggiano con i pacchetti in mano. Legali dell'ultima ora perché si è lavorato fino all'ultimo momento e quindi adesso abbiamo il tempo per realizzare questo piccolo omaggio. Piccolo pensiero, piccolo? Sì, piccolo per cose che sono utili, necessarie, per le quali abbiamo rimandato a Natale l'acquisto in modo da conciliare il regalo con la spesa. Non li apri? No, è presto. A mezzanotte si aprono i regali. Il regalo dell'ultima ora? Sì, all'ultimo momento proprio. Quanto ha speso quest'anno? Non moltissimo, meno dell'anno scorso sicuramente, intorno a un centinaio di euro più o meno per tutti. Per quante persone? 5-6, stretto necessario. 20 euro a testa è un regalo sobrio. Sì, 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 quest'anno sì. Bilancio per i commercianti, come sempre, c'è chi vede tutto nero e chi invece è soddisfatto. C'è ancora il regalo dell'ultima ora? Sì, ma pochi. Come prima, ancora adesso pochi. Pochi regali. Quest'anno proprio male? Molto, molto, molto bene. Ma si vende ancora qualcosa? Cioccolato, cioccolato tantissimo. Tanto cioccolato? Tanto cioccolato, perché è sempre buono e fa bene. Grazie.